Siamo nell'istituto Isabella d'Este Caracciolo, nella sede di Santa Maria Antesecola. Ho l'onore di essere a fianco alla dottoressa Giovanna Scala, dirigente appunto dell'istituto Isabella d'Este Caracciolo. Allora, dove ci troviamo? Via Antesecola. Non tutti conoscono questa via. Siamo nel quartiere Sanità e questo istituto ha una lunga storia. La progettualità che ha messo in campo Giovanna Scala da quando si è insediata presso la sede di Giacomo Savarese è una progettualità che sta dando grandi risultati. L'ultimo dei quali la fondazione ITS. ITS, Istituto Tecnico Superiore, un diploma di secondo livello che mette in campo nuove figure professionali più aderenti alle esigenze del mercato. Io passerei la parola alla dottoressa Scala che ci vuole raccontare della progettualità dell'istituto anche in questa sede di Via Antesecola. Prego. Buongiorno a tutti e grazie per aver scelto questo istituto che probabilmente porta con sé vivacità porta con sé vivacità e soprattutto la progettualità che ha messo in campo ha fatto sì che nei cinque anni di dirigenza ha prodotto dei risultati che possono probabilmente avere uno danno, uno spiraglio di possibilità in quelle che sono nei sogni dei giovani, dei nostri giovani talenti perché questo è un istituto che ha tanti indirizzi ma tutti gli indirizzi concorrono allo stesso progetto. Il progetto fondamentale è quello di creare competenze nei giovani che frequentano questo istituto affinché possano spenderle nel mondo del lavoro e soprattutto siano ricercati dalle aziende con le quali spesso e sempre collaboriamo e questo avviene non solo attraverso l'alternanza ma anche quei rapporti che vanno creati, che vanno oltre quello che è l'aspetto proprio dell'istruzione ma che diventa momento fondamentale di coesione con tutto il resto che concorre alla formazione di un giovane. Ovviamente cinque anni di lavoro in questo istituto sono stati difficili, sono stati impegnativi ma soprattutto sono stati di un grande lavoro di squadra e quando intendo un lavoro di squadra intendo un lavoro fatto in maniera capillare con tutte le risorse dell'istituto compreso gli allunni, compreso gli studenti. Ho spiegato loro l'obiettivo che mi ero prefissata ed era quello della rinascita di due scuole che nascono da un accorpamento. L'accorpamento significa andare al di sotto dei livelli numerici che il ministero stabilisce per cui queste due scuole storiche con una grande storia appunto alle spalle sono stati accorpati perché fondamentalmente avevano gli stessi indirizzi di studio. Questo ha creato inizialmente qualche problema di conoscenza che è stato poi successivamente superato proprio dall'aver sposato le proposte progettuali che sono state messe in campo e questo ha determinato anche un valore aggiunto che è stato la contaminazione di due istituti di essere propensi al cambiamento perché chiaramente questo ha prodotto un notevole cambiamento negli atteggiamenti, nei modi, nei processi che venivano attivati da parte sia dei docenti che da parte degli alunni. Chiaramente sono due realtà difficili che vanno governate con la sapienza e soprattutto con la volontà e la voglia di voler esserci e noi tutti abbiamo scelto di esserci. Sono realtà che collaborano molto e devono collaborare molto con le associazioni presenti sul territorio e questa zona del napoletano è prevalentemente dedita all'associazionismo e soprattutto al lavoro insieme. Infatti ciò che in questi cinque anni si è costruito, si è costruito proprio questa rete di relazione tra le associazioni del territorio che hanno fatto sì che insieme abbiamo creato una sinergia e dei progetti che potevano, sono necessari al territorio. Non ultimo è stato realizzato la Buona Novella, un evento di una importanza fondamentale per il quartiere sanità, dal titolo Buona Novella perché è un inizio di una nuova era, di un'era di partecipazione, di collaborazione, di affetto, di amore tra di noi. Laura Bufano per Synapsi News.